Con Ezio Forziati che partita hai visto? Ti ha convinto questo Bari? È chiaro che la squadra avversaria considerando che era sotto di un gol doveva tentare il tutto per tutto negli ultimi minuti e quindi ci sta che ci sia una pressione finale per raggiungere il pareggio però chiaramente il Bari il primo tempo ha fatto una buona partita doveva capitalizzare in maniera più importante proprio per non soffrire negli ultimi minuti che purtroppo in questo campionato si sa in molte occasioni se non si chiude la partita si rischia di poter andare in difficoltà negli ultimi minuti però c'è da dire che poi hanno avuto anche una buona gestione nel finale nonostante qualche situazione a favore del Potenza però il Bari ha mantenuto in maniera importante il risultato con i denti come si suol dire con i denti e con tutta la forza quindi va bene tre punti Una squadra che punta a vincere il campionato in Serie B deve avere un'anima questa squadra non ce l'ha l'anima perché ci vuole un vero lottatore a centrocampo che sappia portare il gioco avanti Chi l'ha convinta maggiormente e chi non l'ha convinta? No, la squadra non mi è piaciuta proprio è una pazzia giocare in questa maniera per vincere il campionato in Serie B L'area soffertissima, a primo tempo potevamo chiudere sul minimo sul 3-0 poi il secondo tempo ci siamo spendi un po' è la solita cosa che succede al Bari quei 20 minuti di blackout che non riusciamo a capire da dove dipende il Potenza è una bella squadra organizzata però siamo riusciti a vincere siamo molto contentissimi Il migliore in campo? Il migliore in campo Simeri Troppe sofferenze, soffriamo da troppi anni e non abbiamo mai delle soddisfazioni reali meritiamo di più e non disperare di vincere con una squadretta rispetto al nostro potenziale dobbiamo fare di più Bari merita di più Una partita di sofferenza però alla fine sono arrivati tre punti contro il Potenza Buonasera a tutti, tre punti conquistati con sangue ho visto una bella squadra oggi non mi sono piaciuti i cambi però da quando ho visto il cambio di Simeri per costo ho capito che si voleva chiudere il Mista e giustamente ha fatto bene perché togli una punta, metti un difensore, ti chiudi dietro in difesa contro questo bel Potenza, c'è una bella squadra di Potenza, bravissimi tutti i ragazzi, bravi ragazzi mi è piaciuto Migliore in campo? Migliore in campo oggi direi Terrani La Ternana ha perso quindi io sono ottimista, questi playoff li vedo sempre più vicini Posso chiederti il migliore in campo? Io adoro Simeri quindi per me Simeri migliore in campo però anche Antenucci ha dato il suo grande contributo come sempre La situazione è stata una bella domenica, una bella immacolata Sono emozionato perché questa è la settimana del disabile Ho dedicato a loro questa vittoria, sofferta per me perché ci sono qui però ai disabili voglio dire che è una testimonianza, è il messaggio che voglio dare Venite allo stadio, venite a vedere, amate la città del bare, la nostra città, amate la squadra Perché quando si entra a San Nicola e si vince esco felice, contento e non ricordo di non vedere Per me vedo tutto io, è stata una partita con un finale terribile Sofferenza Mai viste porcherie del genere alla fine, che si buttano le gambe A me non piace vedere quelle cose, io voglio vedere una bella partita Voglio vedere